bisogno d'aiuto eccomi sono il tuo assistente h24 pronto ad aiutarti sempre ed in ogni momento di service ti offre assistenza personalizzata di prima classe per rispondere a tutte le tue esigenze auto in panne incidente stradale o hai semplicemente bisogno di assistenza ti offriamo vettura sostitutiva e servizio di depannage soccorso stradale e sanitario ed un'assistenza 24 ore su 24 7 giorni su 7 tariffa di mano d'opera a prezzi riservati e convenienti risparmiando inoltre sull'acquisto dei ricambi e accessori per la tua vettura di service si occuperà di offrirti una soluzione di mobilità alternativa in caso di problemi con il tuo veicolo ad esempio potrai proseguire il viaggio o soggiornare in un albergo ti anticipiamo le spese di necessità ti paghiamo il viaggio per il recupero del tuo veicolo ed inoltre ti offriamo il rimborso delle spese di mobilità in caso di impossibilità alla guida hai forato hai avuto un incidente con colpa o con qualcuno senza assicurazione ti rimborsiamo il danno chiunque sia stato di service ti offre tre soluzioni standard premium premium plus studiate per offrirti il meglio in base alle tue esigenze inoltre grazie all'app di service avrai una serie di vantaggi tutti dedicati esclusivamente a te vivi senza pensieri con di service il tuo assistente h24 4 4 5 5 6 6